Il consolidamento di una parte del cimitero Nisseno e del costone roccioso del castello di Pietrarossa, la regimentazione, sistemazione idraulica e consolidamento del quartiere Santa Venera. Saranno queste le criticità che verranno affrontate in visione di una futura risoluzione da parte di chi si occuperà della progettazione delle tre opere di consolidamento. L'annuncio sui social da parte dell'assessore lavori pubblici Marcello Frangiamone, che parla di un finanziamento per l'affidamento del servizio di ingegneria. Si guarda dunque alla sicurezza geomorfologica del territorio. Recentemente il Ministero degli Interni ci ha finanziato tre progetti. Nel senso ci ha finanziato la redazione dei progetti esecutivi per quanto riguarda la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico di parti del territorio della città. Nello specifico si tratta della messa in sicurezza del castello di Pietrarossa, dell'area del castello di Pietrarossa, dell'area a valle del cimitero Angeli e dell'area del quartiere Saccara, Santa Venera, che hanno dei problemi di natura idrogeologica, di stabilità. Con questi finanziamenti avremo la possibilità di redigere i progetti esecutivi che poi potranno essere finanziati a valere sui fonti del PNRR. Da tanti decenni si è sempre parlato della verifica del rischio idrogeologico che c'è nell'area. Attualmente nel PAI, nel piano per l'assetto idrogeologico, risulta come sito di attenzione. Quindi è un sito che dal punto di vista della vulnerabilità del territorio è particolarmente importante. E' importante fare questi studi per capire quali saranno le possibili opere da realizzare per renderlo finalmente stabile e risolvere i problemi che attualmente il quartiere ha. Per quanto riguarda le strade, noi continueremo a fare le nostre azioni di manutenzione ordinaria e dove è necessaria anche quella straordinaria per fare in modo che le strade siano utilizzabili in modo decoroso. Questo progetto però interviene sulle modifiche veramente strutturali, su quello che è il territorio, se ci sono segni di stabilità, come poterli risolvere. Quindi qualcosa di molto più importante per la soluzione definitiva del territorio stesso.